Questo programma è offerto da Volkswagen Zentrum Bari Amore, ti avevo chiesto di riportare la borraccia Oh, una cosa ti avevo chiesto, una Questi sembrano finferli, ma non li raccogliete che sono velinosi No, vabbè, sei incredibile Sì, sì Ma che cosa dici, sì, sì? Ma che hai le risposte preimpostate? Sì, sì, sì Vabbè, io vado a prendere la borraccia, fortunatamente siamo ancora vicini, vado e torno Vado e torno? Sì, 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 sì Qua stanno gli altri fumi, i porcini, ho visto i porcini, stanno bellezza Valentina, vieni a vedere questi funghi Valentina Valentina Valentina, dove sei? Valentina 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 amore dove la metto? beh dai che pesante questo è quello di padre, sereno la moglie questa è quella che parla con sé sta bella sta mi chiede ma sei cricino sinceramente stai a vedere la televisione ma è sempre il ragno devi fare non è che erano stanno tutti scosciati in giro in giro in giro me che cosa? cioè viaggiare emozioni lo sei ferito il viaggio del me è stai zitto sei zitto tu non hai nessun rispetto delle mie sensazioni delle mie emozioni e porti rispetto che questa piangere sinceramente una cosa che mi fa molto soffrire cioè vedere una donna anche di una certa età sinceramente così ridotta in questa maniera ho capito che è una certa età però perché si asciugano gli occhi col centrino scusa quello sta alla sardegna stanno tutte queste cose sei particolari con richemi eh centrino quello quello è la sardegna stanno quelle cose la aessia ci fa vedere i video allora dicono ascolta c'è un video per te oggi quello dice no e invece si e prendi il marrone se non c'è il video vuol dire che la tua fidanzata non ha fatto niente c'è la videoteca ma non poter uscire stasera ma l'esco la coperta è uscita direttamente dalla spioggia e quelle stanno la sardegna è proprio lo stile madò è tosto agitata sinceramente chiaramente hanno è come se la mia amica c'è adesso noi ci conosciamo abbiamo comunque fatto una relazione comunque lui c'è il fisco come al mio eh sì vabbè però perché non è bene sì pure i piedi sotto le ascelle sinceramente non ho capito perché lui si mette il pataloncino sotto la pancia sinceramente non è capito qua si mette la pancia sul patalone vedi non l'avevo capita cosa c'è un polmone pure quelli che fanno proprio la parte che devono fare le battute a fare ridere cioè stai fare il cretino sinceramente io la trovo una cosa alquanto imbarazzante se io da femmina dicevo che era cretino perché per me è cretino sinceramente cioè alla fine Anna Pettinaglia è una signora comunque una persona che non può stare dietro a queste bambinate bambini della menna capito bambini i bambini i bambini che sono i bambini a fare i bambini e babolina babolina vieni babolina a baboli eh ora ti va se fra un poco facciamo una passaggiata nel bosco ma respiriamo un po' d'aria buona hai ragione amore sì facciamolo fa bene al corpo fa bene allo spirito ordiniamo ci teniamo in forma esercizio fisico importante l'amore mio ha ragione ci tiene ci tiene a noi alla nostra salute il tenersi in forma è importante oh mio dio una bella camminata in marcia come i sette nani lui pensa che io sia ingrassata è ovvio questo è un chiaro messaggio subliminale è un modo carino per dirmi che sono cicciona che non mi curo allora erano brontolo eolo malgiogliolo ma certo perché lui è un vero adone è importante il corpo insensibile ecco cos'è e poi da quando ci tiene pisolo cucciolo e ma manca sempre uno ma porra oh mio dio non lo fa per tenersi in forma per me lo fa per lei sara la sua ex personal trainer con cui è stato dal 16 luglio 2001 al 23 ottobre 2001 lo sapevo quella che faceva body scalp body trans i pesi ma erano sei no no sette risaputo lui vuole umiliarmi per poi dire a lei l'aggressione non riesce a camminare per dieci minuti lui vuole diridermi con lei mammo ledottolo eh sì ma manca sempre uno se mi trovi ingrassata basta dirlo questo programma è offerto da volkswagen zentrum bari ciao ciao Grazie a tutti